buongiorno a tutti anche oggi magari non avevo neanche da leggere i giornali quindi ho pensato che visto l'esperimento dell'altro ieri sui dati che potrebbero essere significativi anche per poterli leggere insieme ho pensato di farne altri e questo oggi sono dedicato al rapporto tra numero di tamponi fatti e popolazione cioè capire quanti tamponi in base alla popolazione in che percentuale hanno coperto la popolazione purtroppo abbiamo scoperto dei dati che dicono ancora una volta che il meridione viene considerato certamente meno la sardegna figura il penultimo posto per tamponi fatti in proporzione alla popolazione andiamo a vedere un po questi dati partiamo dalla regione che ha avuto una maggiore copertura dire il vero sono due le regioni che hanno avuto una maggiore copertura anche se una abbiamo messo insieme il Trentino e l'Alto Adige che ha avuto una copertura dei tamponi fatti per il 7,9% della popolazione insieme al Veneto ed ecco perché Zaia è così sicuro ha dei dati certamente più affidabili dopo aver fatto questa serie di tamponi e non sono necessariamente le due regioni più colpite quindi in questo caso dobbiamo dire che il Trentino l'ha fatto proprio in termini preventivi così come l'ha fatto il Veneto probabilmente visto che è così in alto anche in quei risultati che abbiamo visto ieri cioè nella percentuale di persone dimesse, guarite e con il basso numero anche di decessi in proporzione alla popolazione. Lo stesso discorso lo possiamo fare per chi arriva immediatamente dopo che è la Valle d'Aosta la Valle d'Aosta ha fatto 7.769 tamponi che copre il 6,2% della popolazione questi sono i dati più alti seguono con il 5,8% il Friuli Venezia Giulia altra regione che come vedete è tra quelle che è virtuosa per quanto riguarda le cure e poi l'Umbria 4,3% a seguire intorno al 4,3% anche l'Emilia Romagna e le Marche subito dopo la Lombardia con 3,9% la Liguria con 3,30% come vedete tutte regioni del nord nelle regioni del nord non ce n'è una che sia scesa al di sotto del 3,3% che è quella della Liguria Piemonte 3,8% quindi assolutamente come scendiamo in latitudine ti rendi conto che è vero che c'erano anche meno casi in come scende in latitudine ma che i controlli soprattutto per quello che si dice a livello preventivo sono scemati completamente passando poi a numeri decisamente più bassi vediamo già la Basilicata con il 2% di tamponi la Sardegna con 1,6% di tamponi la Campania che è quella che ne ha fatto meno l'1,4% e poi Lazio 2,5% perché comunque è la capitale la Calabria 1,9% la Sicilia 1,6% 1,6% anche la Puglia quindi Puglia, Molise, Sardegna e Campania sono le quattro regioni che hanno fatto meno tamponi adesso io mi chiedo d'accordo, probabilmente c'erano anche meno casi quindi questa è la ragione per la quale si sono fatti meno tamponi ma due domande me le pongo uno, da chi dipendeva il numero di tamponi perché fare più tamponi significava avere maggiori certezze anche per quanto riguarda quella che è la fase 2 quindi da chi dipendeva il numero di tamponi da quale tipo di risorsa da quale tipo di provvedimento da quale tipo di bilancio, di responsabilità e sarebbe già bello sapere questo l'altra cosa è quanto è di peso cioè quanto il tampone è stato fatto solamente quando c'erano i malati cioè da questi dati sembrerebbe che il tampone invece che utilizzarlo per scoprire se per caso c'erano degli asintomatici quindi a carattere preventivo come è stato detto per due mesi circa sembra quasi che venisse utilizzati semplicemente per verificare i malati che già arrivavano là e dicevano di essere malati avevano già i sintomi della malattia quindi tamponi che sembrerebbe essere stati utilizzati non per la prevenzione ma quanto per la conferma della malattia stessa e niente, è un dato sconfortante perché chiaramente io che sono uno di quelli che ha fatto una battaglia e continuo a pensare che comunque dobbiamo ponderare i diversi mali certo è che se avessimo fatto più tamponi avremo anche maggiori certezze il fatto di aver fatto un numero di tamponi in percentuale basso questa certezza non ce la dà sperando che la quarantena visto che comunque noi siamo isolati per bene possa aver prodotto quella estinzione chiamiamola così se anche ci fossero stati un maggior numero di asintomatici rispetto a quelli che sono stati rilevati un'estinzione che è derivante quasi per causa naturale dal fatto che il tempo sia passato senza entrare in contatto con nessuno e ciascuno è rimasto a casa propria è la mia unica speranza perché se si voleva veramente cominciare a fare delle cose concrete in questi mesi ecco, una delle cose che andavano fatte erano dei tamponi a campione che potessero coprire io non dico il 20% della popolazione ma dovevamo arrivare almeno ai dati del Trentino 7,9%, intorno all'8% lo avresti fatto per territori in un territorio come il nostro e avreste avuto sicuramente maggiori certezze grazie e buona giornata grazie a tutti grazie a tutti